con alan boschini attaccante 2003 del canada che ha segnato pochi istanti fa l'uno a uno finale con san francesco all'ultimo minuto sul rigore alan intanto quanto pesava quel pallone pesava una tonnellata l'ho preso in mano mi arrivato difensore di fianco a dirmi sbagliarlo apposta non sentivo nessuno ce l'avevo lì a testa bassa pensavo solo a dove tirare il rigore e poi quando l'ho tirato a sinistra il portiere che è andato vicino mi sono cagato un po addosso però è entrata meno male pensava un macigno quel pallone certo certo poi dopo tutta la partita comunque abbiamo abbiamo giocato abbiamo abbastanza dominato abbiamo preso un gol per un errore fino al novantesimo siamo rimasti lì abbiamo continuato a spingere siamo riusciti alla fine a trovare questo pareggio che è quasi come una vittoria per come è arrivato così all'ultimo sabato prossimo si va a montanaro per vincere sabato prossimo si va a montanaro e si devono fare i tre punti per forza perché non si possono avere due risultati bisogna vincere per forza dominare la partita e andare a fare sti regionali l'anno prossimo certo e aspettiamo anche sabato il timbro di boschini allora speriamo dai così almeno eguaglio il record di gol di due anni fa certo va bene alan grazie mille grazie a voi ciao